Già non so dove cazzo andare E' un buon inizio Ah mi serve un controller porca troia Dannazione Aia, 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 oh granello La neve ti può far fallire, non ti puoi far, non puoi fallire, far fallire, far fallire, far fallire, far fallire, far fallire Sembra quasi uno scioglilingua Le cose Oh cazzo no no svegliati 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 ma no perché Incoming message press enter to reply Cosa ne pensi Ah ok Flower shoot stuff Pew pew Mi spara in alto, vediamo Ah è un geyser Merda che male Abilità nuova Abilità nuova Quando è un buon momento per fare una battuta sui piselli Quando è un buon momento per mangiare popcorn a un funerale Quando è un buon Mi è però venuto in mente di mangiare popcorn a un funerale C'è un ciottolo vai ciottolo Grande ciottolo Wow Che cacchio Wow No 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 che cacchio è No no vabbè ragni da una parte Oh cazzo Scappa 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 Era tipo Era tipo un papabionico Vai Ok Ok martello martello spacco qua Ho spaccato qualcosa Lì Gli illuminati Ma poi ci sono dei si Mi è cresciato il gioco Lì c'è un altro oggetto Ma che mi serviranno Ok Fanno il rumore è tipo È tipo quando bevi l'ultimo sorso della bibita E sta risucchiando con la cannucce Mi viene con il rumore lì del tipo È uguale Vieni Via di qua Ok Vai con il ciclo Verso nuove avventure Verso nuove avventure Verso nuove avventure Oh Che schifo Dai non puoi colpirmi da Attraverso il ponte E il ponte Oh cacchio qua Bisognerebbe Metterci qua Uh E te Cos'è quello lì Te sembri tipo Un omino Fantasma Cosa sei Sul serio No se c'è Ok Scusami Eh mi sono sentito Stavato quando ho giocato la prima volta Non sono riusciva E noi siamo quello Vedete che tutto Poi in mente Giratini Non ti fermare Non ti fermare Non ti fermare Non ti fermare No Fermati 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 Corri Ah cacchio In modo strano Così giusto perché In modo disgustato Sembra che gli abbia cesso una persona E ci abbia cagato in bocca Praticamente Quindi Forse è meglio In modo strano e basta Poi ti danno un budget limitato E devi fare una cosa malatissima Che cazzo Ma perché telecamera Lo so che sei un treppiedi cinese Però non devi andare di là Abbiamo Siamo nella stessa situazione di prima Ma con 20 spade in più E con una Abbiamo Abbiamo commesso Sudoku Quella immagine lì è troppo sbagliata Oh you touch my tralala Mmm my ding ding dong Le mie ascelle puzzano di Non lo so Tiorodorante Cipolle Perché sono sicuro Lo sapevo Cos'è l'altro aglio Garlic Ga 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 Deh Bam 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 Ho finito i proiettini Bam Bam Ok la banana è fortissima È una figata sta banana Wow Mi piace un sacco la banana come arma Wow Mi piace un sacco la banana Mi piace un sacco la banana Allora siete pronti per i segreti più segreti del west fate presto Yeee Perché si è lanciato giù Sono strano io questi rami hanno una forma molto fallica Ti prego dimmi che non sei un boss Ti prego dimmi che non sei un boss Ah Sì Sì Uh uh Festeggia Festeggia Con convulsioni Festeggia con convulsioni È l'inverno più freddo da 30 anni Moltissime persone stanno morendo dopo la scarsa raccolta Ma è ma c'è un sacco di popolazione Non posso farci niente Mi ha dimezzato la popolazione anche di più Porca puttana Faccio una scelta di merda E il vincitore è? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gavio Wow Sono più forte Alla facciaccia vostra Siete degli sfigati Siete dei falliti Ho vinto io Wuh Dove sono i miei soldi? Dove sono le mie puttane? Qual è il mio premio? Su Ah Un cappello di paglia Ho fallito a La vita No, che cosa triste perché questo posso fare per ottimo è che cacchio ovvio che morivo scusa metti contro Tivano un fucile d'assalto un tipo non fucile a pompa e dai siamo siamo onesti gioco Mettimi contro uno che c'ha una bambola di barbie facciamo sì Oh instant replay di qualcosa io fighissimo Sulla pagina di like ci sono informazioni guardante all'avvenimento bene o obbligato pene perché c'era scritta pene E mi ha dato qualcosa raccogli prove terroristiche è soltanto un terrorista scriverebbe pene Capanna con tutta la neve neve con altra neve alberi con della neve gente con della neve neve con la gente degli alberi Babbe chiudere la neve bimbi nella neve 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 con la gente alberi con la neve Neve con vuota fuck e marchi di caffè vediamo se riusciamo a passare così No, no Come ha fatto è saltato in aria a caso Salta Salta comunque come la merda salti comunque come la merda se davvero stronzo perché cazzo non salta ha sempre saltato finora Adesso decide è un sciopero del salto ma perché sei pagato pure bene è una moglie ai figli è un lavoro Di cosa devi lamentare ebbene anche te mio Bad 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 bravo Torniamo al campana del faro capanna del faro Campana Campana Perché se faccio così giusto così dovrebbe funzionare immagino Cos'è successo che non ti volevo letto di fare questo o lo volevo questo io ok Incoming message a scusa devo devo ricominciare a scrivere qualcosa di interessanti voglio giocare a stupidi a passo Ma non è quanto parlo Cos'è quello? Oh no I'm a fireball B incontrare l'amore della tua vita ma è del tuo sesso opposto quindi a femmina vive in una terra parallela con le stesse memorie e le stesse esperienze semplicemente di un genere diverso quindi praticamente un me di un'altra terra di un universo parallelo ma femmina quindi stare con la gnocca da paura quindi ovvio ehm te chiami questo un castello? ehm hai visto il mio castello? guardi sono 12 persone in tutto il villaggio è il più bello di tutti ah ha detto anche lui che era bello wow allora marni ho deciso mi comprò un paio di papere 2 la chiameremo Psyduck... ah no non Psyfuck Psyduck anche se Psyfuck non è così male che bello un potevo sparare di... non... sparare... non potevo sperare di meglio si non potevo sparare di meglio pu 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 qua invece c'è lui che che sta piangendo a champion of ass a champion of ass con chi stai parlando? ehm Kagebunshin no jutsu andiamo da lui già che ci siamo ciao gordo! guardate che faccia felice che c'ha non vede l'ora di mangiare tutto quello che gli tireremo in bocca wow cosa c'è da sentivo l'altro switch? eh mamma? aha ho tirato l'altro switch e ora aha non è successo niente vado a suicidarmi ti certo tutto quello che vuoi grazie aha proprio una persona simpatica ah devo arrivare la in cima beh mi sembra molto facilmente fattibile eccetto che no non è facilmente fattibile nuovo l'occhio l'ultima volta detto sì mi ha portato fortuna quindi diciamo di nuovo di sì oh mi ha rubato 100 di oro bene vedo un occhio per terra lo guardo poi dico sì e poi arriva lì mi tira un pugno in pancia mi ruba il portafoglio e se ne scappa sempre fatto di quello che sembri soltanto perché c'ho la faccia da scheletro non credo che questo qua è razzismo contro gli scheletri e ne sono abbastanza sicuro il cavaliere della mazza gigantesca che serve palesemente a compensare a merda perché non gli ha fatto un backstab non diventare un boss no 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 cazzo il giudice attacco a sorpresa sono sorpreso e per questo muori oh è finito qui o ciao Woo!